Sabato 8 ottobre 2011, già mezz'ora di bosco senza trovare niente e adesso finalmente il primo della giornata, andiamo a raccoglierlo. Eccolo qua, fresco, bello, bene, speriamo che la giornata prosegua in questo modo, pulizia. Dopo un'ora di bosco, finalmente era il secondo della giornata, andiamo a vederlo da vicino e a raccoglierlo. Eccoci qua, anche lui sembra proprio in ordine. Eccolo che è venuto, bene. Bene, pulizia, speriamo perché si sta facendo a fatica. Manita Muscaria e un metro di sotto, una bella cappella, sembra anche lui maturo comunque, ma andiamo a vederlo da vicino. Eccolo lì. Sano, cambo duro, eccolo, bene, però, proprio uno ogni tanto, tanto. Pulizia, la muscaria di prima, un po' sopra, un po' più sopra, qui, ce n'è un'altra, e qui, un rigonfiamento delle foglie che mi ha sospettito, andiamo a vedere se c'è qualcosa. Sorpresa, sorpresa, giovane, bello. Eccolo qua. Bene, era ora. Uno là, ancora passati 20 minuti almeno, senza trovare altro. Adesso finalmente un altro segnale, andiamo a vederlo da vicino e raccoglierlo. Eccoci qua, un po' mangiato dalle lumache. Gambo un po' profondo, eccolo, fresco, con i segni dei denti delle lumache, che si vedano evidenti, bene, pulizia. Uno lì sembra vecchio, un po' avvizzito, vediamo che cos'è. E' vecchio, è vecchio. Lasciamolo. Lasciamolo al bosco, pazienza. Quello lì, in mezzo ai sassi, invece sembra più in ordine di quello di prima. Andiamo a vederlo, decisamente meglio. Questo è bello, un bel cambotto. Eccolo qua. Fresco, fresco, bello, bene, pulizia. A pochi metri da quello, là in alto, sembra un'altra bella cappella. Andiamo solo a vedere se è porcino a coglierlo. Eccolo lì, e salendo a un metro di distanza, là sotto quel ramo, ce n'è uno che è decisamente giovane. Cominciamo a vedere questo, che comunque sembra abbastanza maturo. Però, è in ordine. E poi c'è quello là, che invece è da manuale. Allora, andiamo a prendere anche quello. Eccolo qua. Eccolo. Eccolo. Vicino a questo. Opa, non scappare. Eccoli lì, bene. Pulizia. Sulla via del ritorno, attraversando il bosco, arrivo qua, su questa pianta sradicata, e lì sotto c'è una bella cappellina, che è così vicina, che la raccogliamo subito. Eh? Eccolo qua. Bellino. Eccolo qua. Bene. Pulizia. Polizia. Posti ripidi. Posti ripidi. E, dopo un momento, là, ancora uno. Andiamo. Andiamo a vederlo da sotto e raccoglierlo. Eccoci qua. E' naturo anche lui. Vediamo com'è. Sì. Sì. E' naturo. Però... E' ancora sano. Bene. Polizia. Bene. Bene. Polizia.